Grazie dallo studio per la linea, dunque continua la marcia di avvicinamento del Pescara verso questa sfida in programma domenica a Livorno, sarà un posticipo ore 15, ne parliamo con il difensore del Pescara Matteo Ciofani. Prima però di affrontare e inquadrare l'argomento Livorno, Matteo volevo farti questa domanda, delle squadre in testa nell'ultimo turno soltanto il Brescia ha vinto, le altre chi si è fermato e chi come voi ha frenato soltanto, è un caso oppure questo significa in questo girone di ritorno magari ci sarà molto più lotta anche perché si incominciano ad intravedere un po' gli obiettivi? Beh sicuramente ci sarà più lotta, il girone di ritorno è sempre diverso da quello d'andata, le prime partite del girone di ritorno soprattutto dopo la sosta sono sempre un'incognita, infatti ci sono state queste sorprese, però per quanto riguarda la nostra partita sappiamo che era una partita difficile, la cremonese è venuta molto umile a difendersi e a provare a ripartire e diciamo che il pareggio è stato giusto. Vi è andato anche bene tutto sommato o no? Sì sì hanno avuto diverse occasioni più che altro su palle inattive perché comunque siamo riusciti a gestire bene le loro ripartenze perché è quello che volevano fare quindi ho rivisto un po' la partita, le uniche grandi azioni sono state su palle inattive, su calcio d'angolo e sulla traversa su punizione. Matteo senti le avete incontrate ormai tutte, qual è la squadra che ti ha impressionato di più e perché? Beh sicuramente il Palermo per forza fisica, per intensità, comunque si vede che è una squadra a mio avviso di categoria superiore con giocatori di categoria superiore. Per le altre sicuramente che mi hanno impressionato il mio modo di vedere è il Lecce e anche il Brescia. Ora c'è il Livorno, la squadra labronica tra l'altro ha riposato quindi in pratica scenderà in campo contro di voi dopo circa un mese, questo può essere un vantaggio oppure la stessa cosa? Beh come ho detto prima è sempre un'incognita quindi vedremo, è importante che noi abbiamo giocato almeno abbiamo subito rotto il ghiaccio dopo questa sosta e vedremo loro come saranno. I Nubini naturalmente non vanno in campo però classifica alla mano, voi avete il doppio anche di più dei punti della squadra livornese, 15 contro 33. Però ripeto non guardate sicuramente la classifica perché ogni partita ha una storia a sé e come affrontare allora questa gara? Beh sì, come abbiamo visto il Padova ha rifilato tre gol al Verona, era più o meno la stessa cosa di quella che succederà a noi quindi in Serie B non esistono partite scontate, sicuramente se abbiamo il doppio dei punti un motivo ci sarà. Però dobbiamo andare in campo con la testa giusta e non pensare assolutamente a questa cosa. Vi ha già detto qualcosa a Pillon che tra l'altro è uno degli ex, poi c'è Fiorillo, c'è anche Palazzi, c'è anche il vostro preparatore di portiere Aldemagni e dall'altra parte c'è il capitano Luci. Vi ha detto già qualcosa a Pillon di questa squadra, l'avete già incontrato all'andata, tra l'altro 2 a 1 per voi, segnò due calci di rigori cocco e addirittura Livorno se non ricordo male sbagliò un penalty. Sì, ancora no, adesso la settimana entra nel vivo quindi avremo modo sia di rivedere i nostri errori nella partita scorsa sia di capire come giocherà il Livorno, ancora no. Matteo, prima parlavi di concentrazione perché contro la Cremonese proprio dalle palle inattive sono arrivati i pericoli più grandi, magari state in qualche modo studiando qualcosina su questo fronte? Ma la Cremonese sapevamo che era molto abile perché ha grande fisicità, ha giocatori appunto abili nel giocaereo e non siamo stati attentissimi e diciamo che ci è andata bene questa cosa, quindi è bene lavorare meglio sulle palle inattive. Ti aspetti un Livorno che starà un po' sulle sue oppure vi aggredirà? Beh, sicuramente le squadre che devono salvarsi come in questo caso il Livorno non penso che faranno la partita, saranno lì e attenderanno il momento giusto anche perché noi siamo una squadra di palleggio e quindi secondo me tenderanno a farci giocare e a provare a colpirci in contropiede e sarà a noi non farci trovare scoperti. Nel pescare è tornato Bruno e si allena anche Liviero, ecco Bruno lo conosciamo, Liviero che impressione ti ha fatto? Ma è arrivato ieri il primo allenamento, io lo conosco perché ha già giocato con mio fratello quindi già ai tempi del Perugia per me era un prospetto molto importante, è stato un po' sfortunato per via di qualche infortunio che hanno bloccato la sua crescita però è ancora in tempo per ritornare ai suoi livelli. Grazie, grazie di cuore a Matteo Ciofani, a questo punto restituisco la linea allo studio, è tutto.